L'azienda ha confermato la scelta che ha fatto, che le condizioni non si sono realizzate. La risposta del curatore è stata di restituire l'azienda, beni e lavoratori compresi, entro il mese di settembre. Ha aggiunto che non aspettatevi che da parte dell'azienda ci siano altre proposte diverse da quelle che sono state formulate. E quindi quelle formulate sono quelle di non considerare conveniente adesso l'acquisizione dell'azienda. Si può tornare indietro? Ok, va bene, ci stanno tutti gli operai o il termine è stato reputato perentorio? Cioè il treno è stato perso? Adesso la situazione attuale è che comunque quelle condizioni non ci sono più. E quindi si va al curatore di nuovo? Praticamente c'è la fase di restituzione, previo inventari dell'azienda al curatore. Voi avete replicato in qualche modo? La cosa che ho detto io è che l'accordo che è stato siglato da noi è inefficace, perché c'era l'asticella altissima e non è stata apprezzata di assumere tutti i lavoratori, però io non abbandono le speranze che si possa ancora salvare le prospettive di questa azienda. Alessandro Conti da Fismic, dopo questo incontro con la proprietà all'Alumec che cosa è stato esposto nei vostri confronti? Ci sono speranze per i dipendenti o si è arrivati a un punto di non ritorno? Purtroppo il titolare non ha dato alcuna speranza a ripensamenti, anche se noi crediamo e dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni per riprendere questa discussione e trovare entro un mese in modo di salvaguardare tutti i posti di lavoro.